Io sono il chierico e dopo la preghiera mi arrappo con i fumetti, sono solo un colchon. Sai cos'è un colchon? Un maiale, una zampa di maiale. La fantasia non serve perché la realtà è sempre molto diversa. Per stare a galla tutto, per stare a galla tutto, spesso ci si deve adattare. E ieri come oggi ci angosciano le goggi, ciucciando caramelle cinque d'ogni qualità. E ieri come oggi ci angosciano le goggi, ciucciando caramelle cinque d'ogni qualità. Eeeh Ecco la caramella che mi piace tanto E che fa du 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 do Hai ragione, scuri? Sì Mi fai nervi Sì